Dai, venerdì sua casa, di venerdì sua casa. Come fai c'è Luca Rignani, meravigliosa, il primo album Destino a San Paratico. Quante volte, sai, mi sono detto, quasi quasi prendo il volo mio. Oh, ci sembra anche un posto maledetto, dove c'è il locale, a casa mia. Cosa facciamo, il tavolo lungo? Grande eroio, grandino e che buono. Dato un po' il coraggio, sai, no, già, ho forza un po'. Quello di restare è sempre a gala, ma restarci insieme è difficile, maturo. Come fai, ah, che rimani sempre pieni in mezzo ai guai? Come fai, come fai, tu che mi sgamboni solo un po' con i tuoi. Io ci provo e sono sempre, ma noi lo stai. Sono nervoso, forse ansioso, ma che vuoi? Amo questa manzola. Quante volte, sai, mi sono detto. Ora spengo tutto, ma resto qui. Faccio un salto dritto dentro l'netto. E non esco fino a venerdì. Che per ogni decisione presa C'è una strada lunga e stretta E come mai che sia più di mille scoscesa Me la sono trovata di fronte sempre Ma tu, Ronnie, come fai, ah, che rimani sempre pieni in mezzo ai guai? Come fai, come fai, tu che mi sgamboni solo un po' con i tuoi. Io ci provo e sono sempre, ma noi lo stai. Sono nervoso, forse ansioso, ma che vuoi? Come fai, come fai, tu che mi sgamboni solo un po' con i tuoi. Come fai, come fai, tu che mi sgamboni solo un po' con i tuoi. Io ci provo e sono sempre, ma noi lo stai. Sono nervoso, forse ansioso, ma che vuoi? Come fai, come fai, come fai, come fai, come fai, tu che mi sgamboni solo un po' con i tuoi. Non è vero, ma noi lo stai.